santa giulia biar maria rosa giulia biar nacque in picardia da famiglia contadina all'età di 14 anni fece voto di castità e si dedicò al servizio e all'istruzione dei poveri ma presto si ammalò e rimase invalida fino al 1804 quando fu miracolosamente guarita durante la rivoluzione 1794 1804 alcuni amici si riunirono intorno al suo capezzale per organizzare le opere di carità di giulia nacque l'istituto di notre dame per l'educazione cristiana delle ragazze fondato ad amiens nel 1804 giulia biar è stata beatificata nel 1906 e canonizzata nel 1970 commento la fragilità di salute di molti santi equivale alla fragilità di salute di molti medium o strumenti eccelsi facili ec uguali Grazie.